No, vada e figata, ha anche il logo e si illumina. Ma buongiorno a tutti ragazzi e bentornati un'altra volta in compagnia del vostro Guerz86. Vedete ragazzi, quest'oggi, mercoledì 25 aprile, non ci fermiamo, anzi, super super bomba, è arrivato il Black Shark, dispositivo targato tra virgolette Xiaomi. Xiaomi ha voluto portare anche questo smartphone proprio all'interno del suo panorama, 8 GB di mora RAM, 128 GB di storage, dispositivo che è targato per il gaming. Intanto andiamo subito ad aprire questo box di vendita, ma prima di tutto ringraziamo come sempre mustman.net, qua sotto in descrizione troverete il link per acquistarlo e soprattutto vi chiedo una cosa, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, schiacciate il tasto like per queste anteprime esclusive e soprattutto condividete il video. E allora ragazzi facciamo subito partire la nostra sigla. Avrei voluto tanto provare ragazzi il Razer Phone, ormai lo conoscete tutti, uno schermo a 120 Hz che ci permette di giocare in maniera molto molto fluida e di godere di tutti i contenuti multimediali. Mi accontenterò di questo Black Shark. Allora andiamo subito ad aprire il box di vendita così vediamo subito quello che contiene. Abbiamo il primo libriccino, eccolo qua, Let's Shark, you are gamer, quindi partiamo subito con i giochi. No, qui non c'è niente, è puramente un cartoncino. Qui abbiamo il telefono che mettiamo un attimino da parte. Vi faccio vedere anche cosa contiene il box, quindi cosa troverete all'interno della confezione. Andiamo ad aprire questo piccolo scatolino, eccolo qua, abbiamo la cover. Questa è la cover, una cover fatta di plastica con al suo interno vedete il logottino Black Shark e la S. Cover che offre un ottimo grip, cover che sarà fondamentale perché lo smartphone scivola tantissimo. Un piccolo libriccino per le istruzioni, lo mettiamo da parte. E udite udite una pellicolina trasparente, non in vetro temperato, ma una classica pellicola in plastica. Più sotto, qua nel box sempre di vendita, troviamo il caricabatterie, non in formato europeo, ma non vi preoccupate perché in confezione troverete anche un adattatore per le prese italiane. Caricabatterie che è rapido. Oltretutto troviamo anche il cavo USB USB di tipo C, quindi tranquilli abbiamo la possibilità di interagire con l'USB di tipo C. E poi troviamo l'adattatore per il jack perché questo smartphone non ha il jack delle cuffie. Qui accanto no, non troviamo nient'altro perché è chiuso, ok. Quindi questa è la dotazione di vendita. Non troviamo delle cuffie auricolari, quindi non potremo utilizzare cuffie in confezione. Un peccato veramente perché ci stavano, visto che è un dispositivo targato al gaming. Ricompongo tutto e vi faccio vedere subito il telefono. Allora, andiamo subito a togliere questa pellicolina. Ecco qua il telefono, ragazzi, tamarrissimo. Lo possiamo dire, sì, è un dispositivo assolutamente tamarro. Uno switch qui nella parte sinistra dedicato al gaming, quindi una volta che si fa partire si entra nell'interfaccia proprio dedicata ai videogiochi. Poi troviamo l'USB di tipo C, quindi nella parte inferiore. Una dual camera qua nella parte posteriore, parte posteriore che è secondo me fantastica. Cioè a me piace, e vi dico la mia. Mi piace essere leggermente tamarro con la scritta qua sotto Black Shark. Chiaro, non è un dispositivo per tutti. Magari vi potrebbe non piacere a livello estetico. Una parte frontale con un display da 5.99 pollici. IPS, sembra quasi un AMOLED, quindi è un complimento, con finalmente un fingerprint qua nella parte frontale per andare a sbloccare il nostro dispositivo. Molto bella la parte verde qua che va a riprendere tutto il frame perimetrale. Secondo me molto molto bella ed elegante. E soprattutto uno switch qua, vi dicevo prima, per entrare nella parte gaming. E qua sopra troviamo l'ingresso delle due SIM in formato nano, memoria non espandibile. Questa, vi dicevo prima, è la coverina, vedete, è solamente un pezzo che si va ad attaccare nella parte posteriore. Molto semplice l'aggancio, ci permette di avere un grip migliore proprio per andare a migliorare la presa in mano. Andiamo ad accendere lo smartphone, togliamo la coverina un attimino. Vi faccio vedere, non so se riuscirò a farvelo vedere proprio sotto la lente della videocamera, perché questo logo, una volta che si accende lo smartphone, si accende anche lui. Cioè si illumina ed è veramente una figata, guardate. Cioè che figata, si illumina il logo. Io lo vedo ragazzi, lo vedo perché inizia a pulsare proprio qua nella parte posteriore. Ovviamente qui ci sono le luci in studio, vi assicuro che è una figata, è impressionante davvero. Si è acceso lo smartphone, eccolo qua ragazzi, ve lo appoggio un attimino qua sul tavolo. Vi faccio vedere un pochino più da vicino anche il telefono e come gira le prime impressioni dopo 24 ore di utilizzo. Allora ecco qua ragazzi lo smartphone più nel dettaglio. Allora il launcher, pensate bene, allora non è, cioè è targato Xiaomi però non abbiamo la MIUI. Vi faccio vedere anche le impostazioni, quindi entriamo nei settaggi. Intanto guardate che figata questo tema, tema davvero bello. Bello perché secondo me è tamarro, ci sta da 10, proprio un tema che fa, si sposa benissimo con la filosofia di questo telefono. Abbiamo la possibilità di, vedete, di abilitare i game dock. Game dock era quel tasto, qui nella parte sinistra che vi dicevo prima, quindi andare a interagire proprio in ambito gaming con delle funzioni dedicate. Abbiamo la possibilità di interagire anche con i temi, questo è un tema preimpostato proprio all'interno di questo smartphone. Ci arriva direttamente senza banda 20 e soprattutto al momento con la lingua cinese barra inglese. Se entriamo in About Phone andiamo a vedere come la Joy UI Build Number è la 1.0, quindi abbiamo questa nuova interfaccia studiata appositamente per questo smartphone con Android 8.0.0, con le patch aggiornate a novembre 2017, quindi molto molto vecchie le patch, speriamo subito che vanno ad aggiornare il tutto. Tornando indietro, guardate, bellissimo questo tema, vi dicevo prima, nero con i toggle verdi, un richiamo davvero al frame del telefono, ci sta davvero da 10. La cosa che non mi piace è ad esempio del launcher, non poter mettere 5 icone all'interno del dock, il launcher particolare, un launcher studiato, vi dicevo prima appositamente, vedete quando schiacciamo su una parte qualsiasi del display ci viene questo quadrato verde, chiamiamolo così. Ho fatto un paio di chiamati ieri, audio secondo me leggermente bassino, vi dico già le prime impressioni, e il telefono è fluidissimo, spettacolare, si muove tutto da dio, veramente non c'è impuntamenti, non c'è perdita di frame, non c'è calo di niente, poi lo testerò chiaramente in ambito gaming. Non ho trovato il Play Store, quindi ho dovuto fare un po' delle accrocchie, ho dovuto installare Attoide per installare Telegram, perché così facendo avevo uno zip con i vari file, con un file a pick up che è questo qui per andare a installare Play Store e quant'altro, il Google Play Service eccetera, così mi sono ritrovato il Play Store, non mi sono ritrovato, vi dicevo prima, la lingua italiana, la possiamo installare tramite More Locale 2, però ecco non voglio stare a spattaccare più di tanto. La fotocamera l'ho provata, mi sembra in linea con quello che è Mi Mix 2S, abbiamo fatto qualche scatto ieri, però insomma niente di che poi lo andremo a vedere. Tasto centrale fisico che può essere usato come tasto multimediale, oppure possiamo scegliere, come ho fatto io, di utilizzare il tasto back qua che non si vede e il tasto multitasking, eccolo qua, vedete si va ad aprire il nostro multitasking, 8 GB di RAM a bordo, 128 GB di storage, è un telefono dedicato, vi dicevo prima, al gaming, ma soprattutto è un telefono dedicato a essere molto prestante, a essere molto reattivo. L'unica cosa che mi fa storcere il naso è che non aver visto qualcosa di gaming, ovvero Razer offre un audio importante, offre un 120 Hz di schermo, offre insomma un qualcosa dedicato veramente al gaming. Qui ho visto, secondo me, le prime impressioni, poi vedremo in fase di recensione completa, un Mi Mix 2S ricarrozzato, quindi cambiato tutto a livello estetico, però ecco niente di più al momento, tranne che è un tema tamarrissimo, è bellissimo, e poi insomma niente di più, ecco, e vabbè il tasto gaming è dedicato qua nella parte sinistra. Ragazzi questa era una sorta di piccola anteprima, video unboxing, così l'avete visto, avete visto la bellezza anche di questo dispositivo così tamarro, così particolare, sono contentissimo di avervelo portato qua sul canale, ma ve ne vedrete ancora delle velle, ragazzi, ci sarà una super super novità, per questo è un canale YouTube a partire dal 2 di maggio, non vi voglio spoilerare niente, però ci sarà quasi, anzi no, ci sarà effettivamente una rivoluzione, poi lo vedrete. Comunque, io vi ricordo le tre cose fondamentali, condividere il video, schiacciare il tasto like, e soprattutto iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Questo è Xiaomi Black Shark, tutte le info le trovate qua sotto in descrizione, su MassMain.net, il codice sconto Quartz86 vale 15€ direttamente al carrello, e soprattutto io vi aspetto nel box dei commenti per sapere la vostra opinione su questo dispositivo, su questo telefono che vedete qua sotto, si chiama Black Shark. Per oggi è tutto ragazzi, noi ci sentiamo come sempre nei prossimi video.